salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme guardate ve la faccio vedere questa sciarpa io ho le due estremità così perché tutto unita che ho chiamato flowers perché proprio piena di fiori e lavorate in un unico pezzo e si può fare lunga per quanto si vuole quindi si può lavorare con tutti i filati che potete avere in casa e in base periodo dell'anno che volete utilizzarla in estate si può fare in cotone proprio per le seratine estive in microfibra come l'ho lavorata io si può utilizzare per tutti i periodi dell'anno e in inverno la possiamo fare di lana anche di una lana sfumata oppure più elegante con il lurex quindi non mancheranno sicuramente a voi le idee per realizzarla la mia questa qua l'ho fatta l'ho realizzata con 80 grammi di filato e un metro e 25 di lunghezza quindi per rendervi conto che non è neanche un lavoro dispendioso dal punto di vista del filato un'idea sicuramente per le feste che arrivano per poter fare dei graziosi regalini ma soprattutto per indossarla realizzarla anche di diversi colori abbinandola ai nostri capi di abbigliamento indossandola nelle serate e in questo momento anche di giorno perché già le temperature l'arietta è sempre presente prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok dove cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo microfibra monamurre che avevo acquistato tempo fa questi sono gomitoli da 50 grammi uncinetto numero 4 è un paio di forbici prendiamo il filato e l'uncinetto e iniziamo la lavorazione questo filato che sto utilizzando vi ho già detto che è una microfibra che è veramente morbidissima però lo potete realizzare anche con cotone semplice o lana o qualsiasi tipo di filato comunque avete in casa prendiamo facciamo un cappietto che non contiamo e lo stringiamo dopo di che lavoriamo 7 catenelle 3 4 5 6 7 prendiamo entriamo nella prima catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima generando appunto il nostro cerchio ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo dentro il cerchio portandoci la codina iniziale dietro così l'alleniamo al lavoro altre 13 maglie alte in tutto nel cerchio dobbiamo lavorare 14 maglie alte lavorate le nostre 14 maglie alte ci rialziamo con 3 catenelle voltiamo il lavoro ne aggiungiamo una filo sull'uncinetto ed entriamo non in questa perché abbiamo generato le catenelle quindi comprende la prima maglia alta che appunto è quello le 3 catenelle entriamo nel secondo punto facendo una maglia alta una catenella di separazione entriamo nel punto successivo realizzando appunto una maglia alta catenella nel punto seguente maglia alta quindi continueremo così per tutti punti che abbiamo a disposizione in tutto però dobbiamo creare guardate questi spazi devono essere in tutto 13 arrivati qui alla fine la tredicesima maglia tredicesimo foro scusate è dato ed è lavorato qui ci sono le 3 catenelle entriamo in questo spazio guardate e facciamo l'ultima maglia alta quindi abbiamo creato 13 fori ci rialziamo con 3 catenelle e voltiamo il lavoro qui filo sull'uncinetto ed entriamo nel primo spazio facendo una maglia alta ora continuiamo facendo 3 catenelle e lavoriamo la maglia alta che abbiamo appena fatto quindi entriamo nel al centro fra le catenelle la maglia alta e lavoriamo 6 maglie alte la prima l'abbiamo fatta facciamo la seconda la terza la quarta la quinta di minus ecco la quinta la quinta quinta e la sesta quindi noi abbiamo lavorato questo spazio saltiamo nel secondo spazio ed entriamo direttamente nel terzo facendo una maglia bassissima terminato il primo petalo ci realziamo con 3 catenelle 1 2 e 3 nello stesso foro facciamo una maglia alta e ora dobbiamo ripetere quello che abbiamo appena fatto facciamo 3 catenelle ed è lavoriamo la maglia alta quindi dentro fra le catenelle la maglia alta lavoriamo 6 maglie alte 2 3 4 5 e 6 saltiamo uno spazio andiamo nell'altro e ci chiudiamo con maglia bassissima 3 catenelle e maglia alta nello stesso spazio dobbiamo lavorare questa è la terza il terzo petalo in tutto ne dobbiamo lavorare 5 sempre seguendo la stessa lavorazione quindi 3 catenelle entriamo qui all'interno e sulla maglia alta lavoriamo 6 maglie alte poi saltiamo uno spazio ci agganciamo con maglia bassissima e ricominciamo questo ormai lo terminiamo insieme saltiamo entriamo qui con maglia bassissima quindi ce ne lavoriamo altri due allo stesso modo e ci rivediamo quando abbiamo terminati per terminare il primo fiore dopo averne lavorato cinque guardate siamo qui dopo aver fatto le sei maglie alte ne saltiamo uno e ci agganciamo qui con maglia bassissima qua abbiamo 12 e noi ci siamo agganciati al terzo per poi proseguendo vi dovrà capitare sempre la lavorazione è sempre uguale quindi noi dobbiamo poi ripetere quello che abbiamo fatto sempre qui alla fine dobbiamo trovare tre fori quindi ci dobbiamo agganciare al terzo foro qui facciamo 7 catenelle 3 4 5 6 7 entriamo nella terza catenella quindi in questo caso prendiamo la catenella entriamo sempre con maglia bassissima abbiamo creato il foro dove partirà l'altro fiore ci realziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e voltiamo il lavoro in questo foro che abbiamo appena creato lavoriamo comprese le 3 catenelle 14 maglie alte lavorate le nostre maglie guardate ci ritroviamo che abbiamo l'ultimo petalo che abbiamo lavorato cosa dobbiamo fare e questo poi per tutte tutti i giri successivi quando ci ritroviamo a lavorare le prime maglie di ogni fiore entriamo qui in cima quindi nella terza catenella però potete prendere tranquillamente la maglia che sta in cima all'ultimo petalo facciamo una maglia bassa quindi agganciamo tre catenelle voltiamo il lavoro aggiungiamo una catenella di separazione ed entriamo noi in questo punto che è il primo ma nel secondo punto e qui dobbiamo ripetere esattamente quindi facciamo una catenella maglia bassa catenella maglia bassa fino alla fine ripetiamo esattamente la lavorazione del primo fiore che abbiamo fatto quindi è veramente semplice e adatto veramente a tutti perché è una lavorazione che poi si ripete ho lavorato fino ad arrivare all'ultimo punto da lavorare che lavoreremo sempre allo stesso modo qui ci sono le catenelle e le 3 catenelle entriamo nel mezzo e lavoriamo l'ultima maglia bassa è alta scusate 3 catenelle voltiamo il lavoro e ora ci lavoriamo i petali quindi facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto in questa parte quindi facciamo la maglia alta dopodiché 3 catenelle lavoriamo 6 maglie alte nella maglia alta che abbiamo appena lavorato saltiamo un foro entriamo nell'altro con maglia bassissima 3 catenelle maglia alta lavoriamo le 6 maglie alte nella maglia alta e così via e lavoriamo tutti i 5 petali in questo modo ci rivediamo qui alla fine così vi farò vedere la semplicità del continuare da soli perché creeremo poi le catenelle del prossimo fiore ho lavorato i 5 petali e mi ritrovo guardate 1, 2, 3 mi sono agganciata al terzo foro qui faccio 7 catenelle 4, 5, 6, 7 mi aggancio qui nella terza catenella dell'ultimo foro con maglia bassissima così mi rialzo con 3 catenelle volto il lavoro e lavoro 14 maglie alte comprese le 3 catenelle quindi 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 12 13 e 14 qui ho il petalo l'ultimo petalo lavorato entro qui in cima mi lavoro maglia bassa quindi qui non lavoriamo una maglia bassissima ma una maglia bassa mi rialzo con 3 catenelle e volto il lavoro e continuo la mia lavorazione dei petali guardate già come si è creato quindi si crea da sé tutta la lavorazione della sciarpetta e quindi di questo motivo floreale qui continuiamo con la catenella di separazione quindi maglia alta e catenella fino ad arrivare qui alla fine dove abbiamo le maglie le catenelle ci agganciamo qui dentro poi lavoriamo i petali ne lavoriamo 5 7 catenelle facciamo le maglie alte e ci agganciamo sempre all'ultimo petalo che abbiamo fatto e così via ci possiamo rialzare fino a raggiungere la lunghezza desiderata quindi continuiamo insieme e ci rivediamo arrivati a una lunghezza che ci può sembrare giusta ho lavorato guardate questa è la partenza e guardate quanto l'ho fatta lunga e guardate soprattutto quanto è bella questa lavorazione sicuramente se utilizzerete un filato sfumato forse sarà ancora più bella però è molto molto carina anche in tintonita quindi mi sono allungata di un metro e 25 fino ad arrivare qui a lavorare l'ultimo petalo quindi che cosa ho fatto nell'ultimo quando ho deciso di fermarmi ho lavorato i miei cinque e qui nella parte dove dovevo fare le catenelle ho lavorato un petale in più quindi ho fatto la lavorazione di un petalo e mi sono agganciata qui alla fine mi ha avanzato un nel c'è nell'ultimo foro quindi ho terminato la lavorazione della mia sciarpa flowers quindi ora taglieremo il filo qui nel cappietto passeremo il filo tagliato così stringeremo e questo lo passeremo con un ago o con l'uncinetto stesso in varie maglie e lo nasconderemo e la nostra sciarpa è terminata sicuramente io ci sono stata veramente poco a farla quindi è una sciarpetta che si può fare in una serata vi potete sbizzarrire a farne tante di tanti colori abbinarli ai vostri abiti e quindi sfoggiarli per uscire un progetto utile perché ci ripare il collo dal freddo dall'arietta è bello a vedersi perché è veramente elegante quindi un progettino che avevo in mente di realizzare proprio per questi periodi però realizza dell'ana anche per l'inverno sotto un giaccone quindi indossare e coprire il collo in modo semplice elegante e soprattutto caldo io spero che il video vi sia piaciuto se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulle mie pagine facebook e instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio come sempre di avermi seguita